Buongiorno a tutti di nuovo, oggi parliamo di tecniche di Fandon. Cosa sono i Fandon? I Fandon sono le tecniche di controattacco del bovina. Nel bovina abbiamo ben sette livelli di tecniche di controattacco. Per quanto riguarda il primo e il secondo livello sono esattamente le stesse tecniche eseguite in due modi diversi. Quindi in pratica abbiamo tutte le tecniche di pugno e tutte le tecniche di calcio. Su queste si esegue appunto una tecnica di difesa differente. Il primo livello esegue tutte le tecniche di pugno e tutte le tecniche di calcio. Il secondo livello esegue la stessa cosa. Dopodiché dal terzo al settimo livello si eseguono solo su determinati tipi di tecniche di pugno. Oggi andremo a realizzare le tecniche di Fandon di primo livello. Le vedremo nel dettaglio, vedremo la tecnica fatta in modo lento e non in modo applicativo. Il lavoro deve essere molteplice. Il Fandon è una tecnica base dove si impara a eseguire una tecnica di difesa su un attacco base di pugno. Dopodiché sta a me a praticarlo in modo più o meno realistico. Il Fandon segue il principio dell'1 si espande a 3 perché io dal Fandon vado poi a creare il QN, dopodiché troverò le tecniche anche nel Sol Vien. Quindi io da una base di una tecnica ne avrò 3. È necessario quindi saperle lavorare in modo pulito e tecnico per poterle applicare al QN, ma è necessario saperle applicare, quindi lavorarle in modo realistico per far sì che una tecnica di difesa abbia una sua applicabilità. La tecnica di Fandon, volendo, in un buon allenamento, si può eseguire e praticare anche il combattimento sportivo. Quindi allenamento come se dovessi combattere, protezioni e cerco di applicare le tecniche di Fandon. Alcune probabilmente non saranno applicabili per via dei regolamenti perché magari hanno dentro una tecnica di gomito o una tecnica appunto non valida, però la maggior parte delle tecniche possono essere applicate al combattimento e soprattutto fare questo tipo di allenamento porta l'atleta a imparare ad applicare maggiormente una tecnica di difesa. Grazie a tutti! 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 YouTube! Grazie a tutti! Grazie a tutti i vari social e buona giornata! Buon allenamento e ti saluto con il saluto del Movinam! Mano d'acciaio su cuore di cuore di cuore di bontà! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!